Lui sa che sei qui. No. Sa dove vivi? No. Sa che sei ancora viva? No. Sai dove abita lui? No. No. Beh, lo scopriremo. Io non credo di volerlo rivedere. Tu perché sei qui? Non ho niente a che vedere questo con te. Ma con te? E come può aiutarti? Io ero sola. Adesso ho un'amica. Ti posso dire tutto. Chiederti tutto. Vita, dov'era? Era qui. Così credo. La casa doveva essere lì. Era stato tutto così ben pensato. Dei particolari. Sembrava così sicuro. Forse l'hanno fatta saltare dopo averci scoperti. Poi hanno chiuso il tunnel. Fammi vedere il percorso, vita. Fammi vedere tutto. Lì sotto c'era il tunnel, credo. I miei ricordi sono incredibilmente precisi, ma la realtà è così diversa. C'erano un mini ovunque da questa parte e torrette di controllo. Era una prigione. Perché? Perché gli ideali di giustizia e uguaglianza per tutti furono male gestiti da pochi. Qui? Deve essere stato qui. Sei sicuro? No. Vita. Guardati intorno, ora è finita. Torri, torri, fido, mine. Il muro, ora è finita. Ho freddo. E adesso vuoi sapere? Sì. Dove l'hanno portato dopo? Sì. Forse tuo fratello lo sa. Sì. Roi, 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 roi.